Il porto turistico Marina di Pescara, una delle strutture più grandi ed attrezzate dell'Adriatico, bandiera blu d'Europa ininterrottamente dal 1990 ad oggi, anche quest'anno ha fatto registrare un buon movimento di diportisti. Anche se ancora presto per stirare un bilancio ufficiale, il direttore del Marina, Bruno Santori, si è detto soddisfatto per i numeri raggiunti. Vediamo un Marina di Pescara semivuoto perché i diportisti si stanno godendo ancora la bella stagione. Sì, per loro fortuna, quest'estate è un'estate particolarmente importante dal punto di vista del clima, abbiamo goduto di lunghe e prolungate fasi di bel tempo e ovviamente i diportisti ne approfittano per passare il mese di agosto in crociera. Tra le note dolenti, ha giunto ancora il direttore, resta serio il problema dell'insabbiamento dei fondali all'imbocco della struttura. Per limitare al massimo disagio le imbarcazioni, ha sottolineato il direttore Santori, il Marina ha provveduto privatamente ad effettuare il dragaggio dei fondali. Il bilancio è ancora presto per tracciarli. In ogni caso, noi normalmente ci attestiamo tra i 250-300 transiti all'anno. È cambiata negli ultimi anni la tipologia delle imbarcazioni. Abbiamo sempre più imbarcazioni a motore e maxi yacht di una certa dimensione, attratti principalmente dalla posizione e dal livello di servizi di questo porto. Direttore, la posizione felice della Marina di Pescara al centro dell'Italia, servita dalle infrastrutture, la rendono anche un luogo dove imbarcarsi e poi proseguire per tutte le località estive? Sì, questo è un ragionamento che vale anche un po' per tutta la città di Pescara e tutte le sue infrastrutture. La posizione e il vantaggio logistico di questa città, a mio parere, sono anche ancora poco sfruttate e poco valorizzate. Il Marina di Pescara è una delle infrastrutture che da un lato beneficia di questa centralità e dall'altro contribuisce a rendere ancora la città un punto di riferimento importante per quanto riguarda il livello di dotazione infrastrutturale. Marina di Pescara ha scelto anche per Ore di Svago tantissimi gli eventi musicali e culturali che richiamano anche tanti appassionati qui nelle ore serali. Ormai Estatica ha aggiunto la sua decima edizione e è diventato un appuntamento fisso dell'estate pescarese. Ci avviamo rapidamente verso la conclusione del cartellone estivo, ma ci sono ancora tanti tanti eventi importanti fino alla fine del mese. Devo dire che ormai il progetto originario di far sposare alla città di Pescara questa infrastruttura e questo spazio come uno spazio pubblico collettivo di intrattenimento per la cittadinanza e per i turisti è un progetto che sta andando a felice conclusione.